Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi affrontiamo insieme la moltiplicazione con i numeri naturali. Per la verità, in questo video vedremo solo come fare le moltiplicazioni a una cifra, cioè quelle in cui uno dei due fattori ha una cifra sola, mentre invece l'altro può averne quante ne vogliamo. Nel nostro esempio, il primo fattore avrà quattro cifre, ma solo per scelta mia. Va bene se sono due, va bene se sono cinquanta. Buona fortuna in quel caso. Per la moltiplicazione a due cifre, che richiede secondo me un pochino più di attenzione e spiegazione, e soprattutto bisogna essere ben sicuri sulla moltiplicazione a una cifra, farò un altro video. Il prerequisito essenziale per accedere a questo video è sapere benissimo le tabelline. Non c'è storia. Che ne abbiano da dire certi insegnanti elementari, le tabelline vanno sapute a memoria, entro e non oltre la terza elementare, altrimenti non le imparate più. Ma veniamo al nostro esempio. Ecco qua, vogliamo fare questa moltiplicazione a una cifra. 1528 per 7. Io mi sono già portata avanti e l'ho già scritta. Come notate, si chiama moltiplicazione a una cifra perché uno dei fattori può avere tutte le cifre che volete, mentre il secondo fattore ha una sola cifra. Come incoloniamo una moltiplicazione? Beh, in realtà moltiplicazione non è propriamente necessario incolunnarla con la precisione che richiedevano invece addizione e sottrazione. Questo perché andremo ad agire su ognuna delle cifre del primo fattore moltiplicandole per l'unica cifra del secondo. Quindi in realtà non è così essenziale incolunnare il numero. Tuttavia io preferisco per questioni di chiarezza e di ordine incolunnare sempre la cifra del secondo fattore sotto alle unità del primo fattore. Quindi come se stessimo lavorando in un'addizione o in una sottrazione. Ripeto, è una mia preferenza personale, credo che sia utile farlo per questioni di ordine, ma non è strettamente e necessariamente obbligatorio. Vedetevela con i vostri insegnanti. Quindi, come dicevo, io scrivo prima il 1528 e poi vado a incolunnare il 7, che sono 7 unità, sotto alla cifra delle unità. Metto il per, l'uguale e tiro una riga sotto alla quale andrò poi a scrivere il risultato. Quello che dobbiamo fare adesso è, partendo da destra, quindi da destra verso sinistra, moltiplicare ogni singola cifra del numero 1528 per 7. Sotto, attenzione, non andremo a scrivere direttamente il risultato, ma andremo a scrivere solo l'ultima cifra di questo risultato e a segnare un eventuale riporto sopra alla cifra successiva. Quindi la cifra che si trova subito a sinistra di quella che abbiamo appena moltiplicato. Poi vedremo che cosa farci con questo riporto. Quello che andremo a fare praticamente, adesso vediamo se riesco a imbrattare tutta la mia lavagna, sarà prendere una cifra e moltiplicarla per 7. Poi prenderemo la cifra successiva e la moltiplicheremo per 7. Poi quella ancora dopo e quella ancora dopo. Oppure possiamo pensare anche di fare 7 per la cifra, quindi 7 per 8, 7 per 2, 7 per 5 e 7 per 1. Non cambia niente perché sappiamo che con la moltiplicazione vale la proprietà commutativa. Ecco, adesso ho cancellato perché altrimenti non si capiva più niente. Partiamo 8 per 7. 8 per 7 fa 56. Come ho detto poco innanzi, non posso scrivere 56 nel risultato. Quindi scriverò solo 6, che è l'ultima cifra di 56, e andrò ad aggiungere il 5 come riporto sopra al 2. Mi raccomando, è importante segnarsi i riporti sopra alle cifre e non sotto, perché se andassi a segnarlo qui, rischierei di confondermi e potrei pensare, se scrivo male e sono un po' disordinato, di stare moltiplicando per 27. Procediamo con il nostro conto. Per il momento ignoriamo il riporto. E facciamo 2 per 7. 2 per 7 fa 14. Adesso non posso ancora però scrivere il 14, perché avevo un riporto di 5, vi ricordo. Cosa facciamo con questo riporto? Questo riporto lo andiamo a sommare al risultato che avremo appena ottenuto. Quindi 2 per 7 fa 14. Ci aggiungiamo 5 che riportavamo. 14 più 5 fa 19. Di nuovo un numero a due cifre, non posso scrivere entrambe le cifre, quindi scriverò solo la cifra finale, che è 9, e andrò a riportare l'1 piccolino sopra, non si legge, sopra alla cifra successiva, quindi più a sinistra, che in questo caso è il 5. Ora di nuovo procediamo a fare 5 per 7. 5 per 7 fa 35, però avevamo il riporto di 1, riporto che dobbiamo sommare al risultato appena ottenuto. Quindi a 7 per 5 che fa 35, aggiungiamo 1 e andiamo a 36. È un numero a due cifre, non possiamo scrivere il numero a due cifre, perché non abbiamo ancora concluso l'operazione. Quindi scriveremo solo 6, e andremo a riportare il 3 in piccolo sopra all'1. Arriviamo finalmente all'ultimo conto che dobbiamo fare, e cioè 1 per 7. 1 per 7 fa 7. A questo dobbiamo però ricordarci di aggiungere 3, che era il riporto precedentemente ottenuto. Quindi 1 per 7, 7, 7 più 3 fa 10. Ora non abbiamo più cifre del primo fattore per cui moltiplicare, siamo arrivati alla fine. Dunque possiamo scrivere, opportunamente incolonnato sempre per questioni di chiarezza, il risultato anche se ha due cifre, e quindi scriviamo 10. Ecco dunque che il risultato di 1528 per 7 è 10.696. Ecco che siamo arrivati anche stavolta alla fine del video, spero che la spiegazione sia stata chiara e vi sia piaciuta. Se avete fatto fatica a seguire, fatemelo sapere nei commenti, cercherò di rispiegarvi. Se avete fatto fatica con i calcoli, forse perché non siete ancora sicuri con le tabelline, in questo caso ripassatele assolutamente. Per oggi questo è tutto, mi raccomando, lasciatemi un like, scrivete nei commenti se il video vi è piaciuto, condividete, e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi il prossimo video sulle moltiplicazioni a due cifre. Grazie a tutti.